Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a Temerry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice è sempre riutilizzabile e accumulabile con le altre iniziative di Pumpling. Trovate il link in infobox e trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, dove ho selezionato tantissimi prodotti a Temerry Potter e non solo, e acquistando tramite uno dei miei link, qualsiasi cosa voi acquisterete, aiuterete il canale a sostenersi. Quindi grazie in anticipo, a voi non costa niente, ma per me è davvero tantissimo. Detto questo ragazzi, cominciamo subito e come potete vedere è giunto il fatidico momento di parlare dell'albero di Natale a Temerry Potter. Quest'estate ve ne avevo già parlato su Instagram, qualora non mi seguiste ragazziantonio.seria, trovate il link sempre in infobox, e lì su Instagram io vi ho parlato della mia idea di realizzare quest'anno un albero di Natale a Temerry Potter. Quindi ho cominciato a recuperare qualcosina su Vinted e poi la cosa mi ha un po' sfuggita di mano, come potrete vedere, perché ho acquistato anche cose di Primark, ho acquistato cose dall'artigiana, cose Noble Collection, ho realizzato alcune cose io, quindi ragazzi non so quanto durerà questo video, ma culminerà col mio albero di Natale, il mio primo albero di Natale potteriano. E la prima cosa che voglio mostrarvi è naturalmente il cappello parlante, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, l'ho recuperato su Vinted, una delle primissime cose che ho preso su Vinted è, ragazzi, questo diventerà il puntale del mio albero. Ho visto un po' di alberi potteriani su Instagram e in tanti lo utilizzano come puntale, ne è anche uscito uno su Primark da poco con lo stemma di Hogwarts, ma devo dire che mi piace di più l'idea del cappello parlante messo in cima all'albero, quindi utilizzerò questo. E a proposito di cappello parlante vi mostro anche un'altra cosa. Vi mostro questo qui. Questa è una decorazione parlante, questa qui però è la versione tarocca dell'originale, perché quella originale è di Hallmark, viene venduta solamente in America e Inghilterra, se non sbaglio. Acquistarla dall'Inghilterra oggi come oggi è una follia, perché tra spese di spedizione, dogana e il costo stesso della decorazione mi sarebbe arrivata a costare qualcosa come 100€. E invece l'ho trovata su Amazon. In poche parole, cosa hanno fatto i nostri amici orientali? Cosa hanno fatto? Hanno acquistato probabilmente quella originale di Hallmark, hanno fatto un calco di quella decorazione ed eccola qui, ne hanno realizzata una copia in resina. Mentre quella originale è una sorta di gomma siliconica e il cappello parlante parla e muove le labbra, quindi è molto più dettagliata, molto più animatronica. Mentre questa qui sotto ha un piccolo altoparlante con un tasto e dice solamente una frase e vi smista sempre nella stessa casa, che se non sbaglio è un corvo nero. E poi qui basta mettere un nastrino e si può appendere all'albero. A me piaceva molto questa decorazione, ho preso questa su Amazon, l'ho pagata circa 20€, quindi non poco in ogni caso, ma l'originale costa già di base 50€. Quindi mi accontento, è carina, ha impiegato tre vite ad arrivare, però qualora foste interessati vi lascio il link in infobox. Sempre su Amazon ho acquistato anche questa, che è la famosa gabbietta di Edwige, che io possiedo già, ma per 5€ era in offerta, l'ho presa. L'ho presa e ho messo in cima questo nastrino di colore rosso ed ecco qui, una decorazione originale Harry Potter con soli 5€. Visto che le decorazioni originali Warner Bros costano davvero una follia, si va dai 20-25€ l'una, quindi io mi sono un po' ingegnato e vi mostrerò anche altre cose andando avanti. Questa invece l'ho comprata l'anno scorso, ma la trovate anche adesso su EMP, dovrebbe costare intorno ai 10€. Questa è originale Warner Bros e si tratta di un piccolo calderone della pozione Polisucco, c'è scritto infatti Poli Juice Potion ed è molto carino, molto semplice. Questa l'ho acquistata in tempi non sospetti, l'anno scorso prima ancora di decidere che quest'anno avrei fatto l'albero di Natale. È molto molto carina, ve la consiglio. E esiste anche la versione col calderone rosso di Grifondoro e l'anno scorso se non sbaglio c'era anche quella delle altre case, ma non l'ho più vista. E quindi di questa qua e di quella di Grifondoro sono certo che la potete trovare su EMP. E ragazzi, passiamo poi a un altro sito dove ho acquistato un'altra decorazione originale a 12,90 spedizioni incluse. La lettera di ammissione era gratuita su Merchoid, ho già acquistato in passato su questo sito e fortunatamente non ho pagato la dogana. Mentre mio fratello ha acquistato un'altra cosa e lui ha dovuto pagare la dogana. Quindi anche Merchoid, ragazzi, va un po' a fortuna. Ed è questa qui. Ho acquistato la lettera di ammissione ad Hogwarts, anche questa confezionata nella scatolina Warner Bros. E adesso la andiamo a tirare fuori. Eccola qui. È piccolina. L'ho pagata a 12 euro, però è un prodotto ufficiale e mi piaceva avere anche la letterina appesa all'albero. Quindi eccola qui. Abbiamo davanti lo stemma di Hogwarts in ceralacca e qui anche lo stemma di Hogwarts in oro. E poi dietro abbiamo l'indirizzo di Harry Potter, quello classico della lettera. Carina, molto semplice, ma non avevo nulla che rappresentasse la lettera, quindi l'ho presa. Altra cosa recuperata su Vinted che vi avevo già mostrato è questa confezione qui. L'ho pagata a circa 30 euro, ma all'epoca avevo anche dei buoni omaggio, perché avevo fatto acquistare cose degli amici. E quindi l'ho presa con parecchio sconto, ma non ricordo più quanto. Sono le decorazioni di Noble Collection, quelle in metallo. Eccole qui. Anche queste prese in estate. Ragazzi, sono molto molto belle. Abbiamo lo stemma di Hogwarts. Sono da entrambi i lati uguali. Abbiamo anche quella di Corvo Nero, di Grifondoro, Serpved e Tassorosso. Queste le metterò magari più in evidenza, le metterò nella parte più centrale dell'albero. Quella che tutti vanno a guardare per prima, perché sono davvero figlie. Sono davvero molto molto belle. Sono in metallo. Comprandole su Amazon costano circa 60 euro. Su Vinted però, visto che qualcun altro le vende, se non sbaglio ce n'è un set a 30 euro in vendita su Wallapop. Credo si chiami così l'applicazione, anche se non ci ho mai comprato. Però anche queste super affare, quindi finiranno sull'albero. Altro acquisto. Ragazzi, la situazione mi è sfuggita di mano. Fortunatamente adesso arriva dicembre, quindi riuscirò a fermarmi, a dare un freno a questa storia. Ho preso le palle dell'artigiana. Questo mio acquisto l'ho comprata io dall'artigiana, che ringrazio sempre tantissimo. È super super brava, super gentile. E ragazzi, ho preso il set delle palle di Hogwarts in velluto. Questa è quella di Tassorosso. Poi abbiamo quella lì di Grifondoro in velluto oro e rosso. Poi ancora quella di Serpeverde in velluto oro e nero. Mi piace tantissimo anche il fiocco abbinato sulla pallina. E poi questa qui di Corvo Nero, che è la mia casa, che invece è in nero e blu. Abbiamo sempre lo stemma in tessuto. Credo sia stampato sul tessuto. Molto, molto carino. E ragazzi, queste qui le ho prese dall'artigiana. Mi sono arrivate velocissimamente. Quindi siete ancora in tempo per ordinarle. In caso credo ne abbia ancora. Quindi il link in infobox. E ancora ragazzi, non finisce qui. Perché abbiamo tantissime, tantissime cose di cui parlare. Perché ad esempio qui accanto a me c'è tutta la montagnola di Primark. Questa è tutta roba che io ho recuperato su Vinted. Tutta roba di Primark. E ragazzi, tra circa tre giorni aprirà Primark anche a dieci minuti da casa mia. Quindi la fine. Ma adesso vi mostro cosa ho preso. Abbiamo questa palla qui, alla quale ho sostituito il nastrino. C'era un fiocco argentato con il logo Harry Potter. E un nastrino argentato. Erano davvero orribili, davvero brutti. Li ho tolti e ho messo questo nastrino argento e blu. Che secondo me è più carino. Di queste ne ho due. Non chiedetemi il motivo perché non lo ricordo. Perché ne acquistate due? Non lo so. Ho anche due confezioni di queste palline qui. Che invece sono in vetro o plastica. Non le ho mai aperte, quindi non lo so. E queste qui sono delle palle con all'interno dei tubicini di colore oro. E poi su ogni palla abbiamo lo stemma un po' stilizzato delle quattro case. Ultimamente ho visto su internet che sono uscite anche quelle in velluto di Primark. Sono uscite anche quelle con lo stesso tema, così in materiale trasparente. Con all'interno tubicini però colorati con i colori delle case. Quindi tubicini argentati, blu, verdi, rossi. Molto molto carine anche quelle. Magari quando aprirà qui vicino a casa mia farò un salto. Ma spero quasi di non trovarle. Perché è un albero piuttosto piccolino quello che andrò a fare. Non è un albero enorme, è di un metro e ottanta se non sbaglio. Lo avevo sul posto di lavoro in soffitta. Quindi l'ho recuperato. Gli diamo nuova vita. E quindi quest'anno farò due alberi a casa mia. Cosa che mi suona un po' strana, mai fatta. Però quest'anno facciamo così. Facciamo una cosa diversa. E poi queste sempre recuperate su Vinted. Sempre di Primark. Spero si vedano. Abbiamo Edvige con la valigia di Harry. La valigia di Hogwarts. E poi qui abbiamo invece la mappa del malandrino e Harry. Mi manca quella con Hagrid e il treno. Che mi sarebbe piaciuto recuperare. Ma non è stato possibile. E poi ancora questo l'ultimo acquisto dalla Spagna. Sempre su Vinted. Pagato tipo 3-4 euro. Sempre di Primark. Abbiamo queste palle qui. Che sinceramente le ho prese. Ma non mi fanno molto impazzire. Abbiamo questa blu con il corvo di Corvo Nero. Abbiamo questa rossa con il leone di Grifondoro. Non so neanche se si riesce a vedere dalla telecamera. Poi abbiamo questa gialla di Tasso Rosso. E poi quella verde di Serpe Verde. Non lo so. In foto mi sembravano più carine. Poi le ho trovate un po' più deludenti dal vivo. Però ormai le avevo prese per 4 euro. Una cosa del genere. Me le tengo. E le buttiamo sull'albero anche loro. Ma adesso invece passiamo alle cose che ho realizzato io. O che ho adattato. E che ho messo in questa bellissima scatola di scatte. Perché non sapevo assolutamente dove mettere. E ragazzi vi farò vedere. Ho scaricato da internet dei template. Delle cioccorane. Delle gelatine tutti gusti più uno. E di altre cosine. Che ho fatto stampare in tipografia. E che poi ho incollato con la colla a caldo. Ci ho lasciato praticamente le dita. Perché mi sono fatto parecchio male con la colla a caldo. Non essendo io pratico della cosa. Però il risultato è soddisfacente. Ho realizzato una bella serie di gelatine tutti gusti più uno. Con all'interno dei pallini colorati. Dei pompon. Che ho comprato in un mercato del fai da te. Ho messo anche delle finestrelle in plastica. Ritagliandola da un foglio di acetato. Di queste ne ho fatte parecchie. Ne ho fatte sei. Sei o sette di queste qui. Poi ho realizzato anche le cioccorane. Le scatoline delle cioccorane. Che sono queste. Anche questo qua ritagliato a mano. Incollato con la colla a caldo. Ho perso tre dita. Però sono riuscito. Di queste ne ho fatte parecchie. Ne ho fatte davvero tante. E poi ho anche riadattato questa scopa. Questa Nimbus di un action figure. L'ho riadattata a decorazione natalista. E ragazzi per bilanciarla. Per riuscire a farla stare in orizzontale. Davvero. Ho patito le pene dell'inferno. Ho anche attaccato il boccino qui in cima. Poi ho anche realizzato queste. Alcune mappe del malandrino. Così sempre in cartoncino. Anche queste. Abbastanza semplici da realizzare. Devo dire. Bastava piegarle nel modo giusto. Capire come piegarle. Incollarle. Ma molto molto carine. Ma adesso vi faccio vedere qualche altra cosa. Ad esempio. I libri di testo. I libri di testo. Con all'interno le pagine realizzate. In credo sia feltro. Non so come si chiama. Ho acquistato questi fogli. Li ho ritagliati a mo' di pagina. E li ho incollati all'interno della copertina. Per dare un po' di volume. E abbiamo il libro di pozioni. Abbiamo anche il libro di Alloc. Poi ho anche realizzato il cavillo. Con le pagine all'interno. Ma ancora non è finita qui. Perché ho realizzato anche un altro libro di Alloc. Abbiamo anche le fiabe di Bedelbardo. Abbiamo anche storia di Hogwarts. Il libro di Rita Skeeter. Con le pagine del colore esatto. Ho cercato proprio il materiale dello stesso colore. Ed è venuta abbastanza bene. E poi questa qui. Sempre di Alloc. Poi ho anche realizzato questo qui. Con le prime pagine della Gazzetta del Profeta. Con quelle più iconiche. Il pezzo degli scacchi magici. Della scacchiera di Agostini. Che avevo in casa. L'ho modificato. L'ho incollato all'interno con la colla a caldo. E poi ho messo anche un gancetto. Quindi anche il pezzo degli scacchi finirà sull'albero. E poi ancora abbiamo un'altra versione del cavillo. Quella classica di Luna. Ma non è finita qui. Mi sembrava strano. Manca ancora una busta. Eccola qui ragazzi. L'avevo dimenticata nell'armadio. Questa bustona. Anche tematizzata a tema Harry Potter. Molto molto bella. Che mi hanno portato dei miei amici da Praga. Ragazzi. È piena di roba anche questa. Abbiamo la palla. Con la strilletta all'interno. Che mi è stata regalata l'anno scorso. Per il compleanno da una mia amica. Che l'ha realizzata lei. E poi ancora cose di Primark. Che avevo dimenticato. Come questa palla in vetro. Con lo stemma di Hogwarts. E quest'altra del binario 9 3 quarti. Come avevo fatto a dimenticarle. E poi ragazzi. C'è una marea di roba. C'è anche questo gatto. Che ho modificato. Ho un po' acherato. L'ho comprato 99 centesimi. E poi ho dipinto la sciarpa. Col motivo di Grifondoro. E poi anche con le righette nere del Soriano. Ho fatto quello che potevo. Per non farla sembrare troppo handmade. Diciamo così. E ragazzi. Ho realizzato un po' la McGranit. Ho anche realizzato un po' l'ombra bianca. Degli occhiali attorno. Come è raccontato nei libri. Però vabbè. Mettiamoci un po' di fantasia. Ma ragazzi. 99 centesimi. Abbiamo anche la McGranit. Poi abbiamo ancora questo gufetto. Che ho preso su Aliexpress. A cui ho bucato la testa. Ho inserito un gancio. E l'ho fatto diventare una civetta. Decorazione di Natale. E poi cosa abbiamo ancora? Questa. Che è ad esempio una gabbietta. Con delle palline rosa. A queste palline ho attaccato degli occhi. E sono diventate delle baby puffole. Pluffole. Puffole. No. Puffole. E poi ancora ragazzi. Ho realizzato questo Patronus. Ho trovato questo cervo. In un negozio di articoli per la casa. Anche questo qui. L'ho pagato un euro. Era bianco. Tutto glitterato. Ve l'ho fatto vedere su Instagram. Vi ricordo Antonio.seria. E poi niente. L'ho semplicemente ridipinto. Con della colla glitterata. Azzurra. Per dare l'effetto del Patronus. Spero di esserci un po' riuscito. A me il risultato piace parecchio. Quindi abbiamo anche il Patronus. Sull'albero di Natale. Poi ho questo Picket. Che ho preso. Da Running Press. Quindi quello. L'originale di Amazon. Questo qui. Sotto vostro consiglio. Non l'ho bucato. Non ho messo nessun gancetto. Lo metterò semplicemente tra i rami dell'albero. Perché è giusto così. Avevate ragione voi. Poi ho modificato questo boccino d'oro. Ho messo semplicemente un laccetto qui sull'ala. E lo metterò appeso anche questo nell'albero. Oppure magari toglierò il laccetto. Poi lo inserirò in mezzo. Devo ancora capire bene come metterlo. Ma era in più. E quindi ho deciso di aggiungerlo sull'albero. E ancora ho realizzato dei calderoni. Questi calderoni presi su Aliexpress. Li ho riempiti con questi pompon. Che ho trovato sempre nel negozio di Casalinghi. E poi ho attaccato questo topino qui sul bordo. E questo è un calderone di pozione polisucco. Lo vediamo un po' così. Ma ne ho realizzato anche uno con all'interno una pozione ribollente. In blu e azzurro. Ne ho realizzata una con la scopa attaccata sul davanti. Così in rosso. E ancora un altro in viola. Con una civetta attaccata sopra. Questi calderoni mi piacciono. Mi hanno soddisfatto parecchio. Questo qui sempre con la civetta in rosa. E poi ne ho fatto anche uno bianco. Con la bacchetta attaccata sul bordo. Questo devo dire che è uno dei miei preferiti. Secondo me sono venuti abbastanza bene. Faranno la loro poca figura. Poi ho anche acquistato questi cappelli da strega. Sempre su Aliexpress. Qui ho messo semplicemente il gancetto in cima. E questo cordino di spago. Non so se li userò. Probabilmente sì. Ma non sono convintissimo. Quindi non lo so. E poi anche delle scope. Ho preso un pacchetto di scope. Sempre su Aliexpress. Anche in questo caso. Le ho bucate ad uno ad uno. E ho inserito il gancetto. E ho messo il filo di spago. Quindi non lo so. Forse è un po' esagerato. Forse ho preso un po' troppe cose. E ancora non è finita qui. Perché ho ordinato sempre su Vinted. Da una ragazza spagnola. Alcune cose. Come questo qui. L'orologio dei Weasley. Che è stampato in 3D. E poi lei va a rifinire. Con alcuni dettagli. Con alcuni adesivi. Eccolo qui. Guardate. Questo è l'orologio dei Weasley. Io lo trovo davvero molto molto bello. Ma ha realizzato anche altre cose. Mi sta accadendo tutto ragazzi. Anche questa. La targa di Sirius Black di Azkaban. Oppure ancora ha realizzato questo. Che è il logo di Mielandia. Quello originale. Quello in inglese. O Nedukes. Però mi piaceva parecchio. E poi ha realizzato anche. Che vi faccio vedere così velocemente. Questa che è la porta della sala comune di Grifondoro. La signora grassa. Molto molto carina. La trovo molto bella. Questa qui. Che invece è la vetrata. Che troviamo nel bagno dei prefetti. Dove viene aperto l'uovo. Della prova del drago. Anche questo lo trovo molto molto bello. E poi ancora lo specchio delle brame. Eccolo qui. Sono tutti stampati in 3D. E poi anche questi occhialini con la saetta di Harry. Molto semplici. E poi abbiamo anche questo. Che è uno dei proclami della professoressa Umbridge. Questi mi sono piaciuti davvero molto. Sono realizzati molto molto bene. Non costavano neanche tanto. Li ho pagati circa 4 euro l'uno. Ma secondo me ne vale davvero la pena. Se dovessi recuperare il suo username su Vinted. Ve lo lascio sotto in infobox. E poi ragazzi. Ultimi ma non per importanza. Ho hackerato una marea di cose. Di Aliexpress. Cose originali. Portachiavi originali. Ad esempio. Ho hackerato questa. La coppa di tassorosso di Aliexpress. L'ho fatta diventare una decorazione. Ho anche hackerato questo di Animali Fantastici. L'orologio da taschino. Perché non avevo nulla di Animali Fantastici. E quindi ho pensato di appendere questo orologio. Poi ancora. Questo che era un portachiavi. Lo stemma dei Malfoi. Anche questo è venuto secondo me molto molto carino. Ma abbiamo anche la pietra filosofale. Questa era una collana. Sempre di Aliexpress. Aliexpress. E poi abbiamo questo sempre Aliexpress. Che era anche lei una collanina. La pozione d'amore. Alla quale ho aggiunto semplicemente questo pompon. Qui di lato. E il nastrino. Poi ancora questo. Che era un portachiavi del binario 9.3 quarti. Diventato anche di decorazione. Questo era un portachiavi originale del Warner Bros Studio Tour. Che avevo rotto. E che ho recuperato così. È una cioccorana. La card della cioccorana. Quindi l'ho recuperata. E sono molto molto contento. Questo era un portachiavi originale. Preso su Amazon a 5 euro. Con il marchio nero. Io ho rimosso la catenina. E ho messo il nastrino verde. E mi sembra che il risultato non sia niente male. Anche in questo caso. Oppure anche questo. Che era un portachiavi. Che ho preso su MP a 3,90 euro. E col cappello parlante. Anche lui originale Harry Potter. E ho semplicemente smontato la catenina. Abbiamo anche il simbolo dei doni della morte. Ragazzi davvero. Ho impiegato diversi mesi per accumulare tutte queste cose. Ma sono molto soddisfatto. Qui abbiamo un altro diadema di corvo nero. Che secondo me fa una bellissima figura appeso sull'albero. Farà una bellissima figura. E poi ovviamente anche questo. Una giratempo originale. Questo era un portachiavi. L'ho preso su Vinted. Per 3 euro se non sbaglio. Ho smontato anche qui la catenina. Ho messo il nastrino. E guardate che bella questa decorazione. La stessa originale. Anche questa è originale fondamentalmente. Costa 25 euro sul sito Warner Bros. Io l'ho fatta con 3 euro. Quindi ragazzi. Secondo me. Basta avere un minimo di ingegno e di fantasia. E prepararsi per tempo. E si possono tranquillamente recuperare una montagna di decorazione a tema Harry Potter. Qui abbiamo anche l'anello di Gaunt. Molto molto carino. E niente ragazzi. E' finita così. Non ce ne sono più. C'è questo che era un altro portachiavi. Sempre di Harry Potter. Originale. E poi questo che era invece un portachiavi. Che ho preso su Aliexpress. Con la rana di cioccolato in gomma. Quindi ragazzi. Ho realizzato davvero tantissime decorazioni. Ho impiegato diversi mesi. Ma con molta calma. Andando a selezionare le giuste occasioni. E giusti prezzi. E credo che riempirò per bene il mio albero. Ho acquistato anche i led. Quindi adesso non mi resta che prendere tutto. Realizzare l'albero. E io magari adesso perderò qualche ora. Ma voi lo vedrete adesso. Io vi saluto. Vi lascio al mio albero. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.